eccoci siamo tornati in diretta ciao a tutti ciao buonasera questa è la puntata diciamo 2.0 del salotto dopo compleanno quindi tutti un po appesantiti e questa volta è stato il mio compleanno auguri grazie 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 e intanto salutiamo quelli che ci sono in intanto presenti se vogliono scrivere un messaggio un qualcosa un commento e direi che possiamo partire un attimo con che cos'è successo queste quest'ultimo periodo qui a tempo di vivere quindi sta effettivamente oggi abbiamo festeggiato il mio compleanno che in realtà era ieri ma l'abbiamo festeggiato oggi e come ogni compleanno che si rispetti abbiamo mangiato tantissimo tanto 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 mi cantava giovanotti tanto 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 questa la spiegheremo un altro giorno scrivete nei commenti se volete sapere questa 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 cosa che facciamo e poi cos'altro è successo queste questo periodo cos'altro è successo beh abbiamo fatto un open day è stato un open day su due giorni un sabato facevamo uno dei nostri classici open day quindi si veniva qua si faceva un tour dello qui villaggio facevamo un cerchio dove spiegavamo il progetto un po quello che facciamo anche qua nel salotto però con dei confronti di persona con delle domande eccetera eccetera il giorno dopo c'era sempre presente qui da noi illumina che è parte di un progetto di comunità diffusa con sia i loro mercatini perché ci sono varie figure vari produttori locali avevamo chi faceva farine avevamo chi aveva dei prodotti aveva dei vestiti ecco e soprattutto anche loro c'è stato un cerchio di doppia condivisione dove noi abbiamo insomma velocemente ripetuto quello che era il nostro progetto ma soprattutto illumina si si presentava con il suo progetto e poi c'erano domande c'era un confronto tra due modi diversi di di concepire la comunità ma tutti due enti rizzati nella stessa direzione quindi anche una possibile collaborazione più attiva futura che avverrà non mi ricordo quando ma entro la fine dell'estate vi sarà un altro tipo di collaborazione è stato molto bello ci sono ospiti che si sono fermati anche qua la sera tra il sabato e la domenica abbiamo fatto un drum circle con il nostro amico alessandro che è tornato a trovarci e ha proposto il drum circle è stato molto bello e è stato un bel weekend è stato un bel weekend le bimbe hanno fatto le torte abbiamo fatto assaggiare la nostra nocciolata fatta con con le nostre nocciole stiamo mettendo appunto una ricetta perfezionando una ricetta della nostra nocciolata è un altro nostro progetto abbiamo 1200 piante di nocciole quindi l'anno scorso abbiamo solo venduto le nocciole vorremmo appunto arrivare anche a fare le nocciolate poi altre cose che sono successe forse abbiamo fatto delle facilitazioni interne stiamo mettendo in campo tantissimi progetti che non andranno tutti in porto ma sono tante cose al momento qualcosa di più concreto qualcosa di più embrionale però bello la presentazione del libro voi non c'eravate ho fatto una bellissima presentazione di un libro a bettola di uno scrittore avrà non so quanti anni comunque penso una settantina ottantina che qua di queste parti raccontava di questi tre bambini negli anni 50 della loro vita che era proprio qua dall'altra parte del perino quindi nella stessa valle e i valori che portavano avanti lo stile di vita e anche un po' il messaggio che voleva mandare lui come persona quindi non solo una fotografia storica di quel periodo ma quelli che erano i valori che secondo lui erano importanti ci siamo rispecchiati tantissimo davvero tanto è stato è stato molto bello parlava del libro sembrava che parlasse di noi e raccontava che cosa voleva trasmettere con quel libro sembrava parlasse dei nostri valori è stato bello era presente anche il Sina che erano presenti Enrico il proprietario attuale ancora proprietario di casa da cui stiamo acquistando l'immobile vi ricordiamo il nostro crowdfunding supportateci grazie era presente lì abbiamo iniziato anche a parlare di progetti sempre con il nostro proprietario che ci vuole molto bene e ci aiuta tutte le volte che può c'era il sindaco e anche il sindaco ha ringraziato pubblicamente la presenza della comunità Tempo di Vivere stava mandando una cittadinanza onoraria e la presentazione di questo libro hanno ringraziato pubblicamente la presenza di Tempo di Vivere dicendo sappiamo che vi state radicando la vostra presenza è preziosa e potremmo fare più cose insieme anche non solo culturali ma anche concrete quindi l'idea è anche l'esterno tra cui anche le istituzioni si rendono conto che insomma possiamo essere una presenza importante sul territorio noi le istituzioni non le cerchiamo non le abbiamo mai cercate abbiamo un buon rapporto ma non insomma non c'è uno scambio attualmente ma anche l'idea di un sindaco di persone che ci hanno riconosciuto e ci hanno detto vi seguiamo molto e sappiamo quello che fate anche questo è interessante e bello e potrebbe aprire molte molte possibilità è un periodo dove apriamo possibilità esatto e c'è l'istrice vabbè raccontatela voi a me piange il cuore vai vai raccontatela voi eh sì purtroppo dobbiamo raccontare un episodio che ci sta affliggendo nel nostro orto più lontano abbiamo ricevuto la visita di forse un istrice non l'abbiamo vista ma dal tipo di attacchi che ha fatto alle piantagioni sembrerebbe proprio un istrice lo dico lo dico devi dirlo lo dico lo dico potrebbe essere un tasso al 20% è comunque una notizia molto tristica comunque una notizia sì purtroppo quest'istrice ha una particolare predilezione per le nostre patate ormai ce le ha cavate su tutte per mangiarsele abbiamo tentato in mille modi di arginare il problema ma non c'è niente da fare ha vinto lei e niente a questo punto lo consideriamo il nostro attributo alla fauna locale se avete consigli sull'istrice fateci sapere esatto quindi abbiamo perso quasi tutte le patate però al momento le altre cose ci girano intorno ci scavano intorno non le ancora toccate ma iniziamo a avere qualche incursione all'orto ci sta le abbiamo le abbiamo ampliati ci siamo spinti anche un po più lontani rispetto alla casa e ci sta che la fauna si stia giustamente interessando ok è un supermarket sotto casa per loro però va bene perché stiamo imparando solo che non abbiamo soluzioni se non l'idea di comprare delle reti di metallo interrarle ai 40 centimetri sperando che funzioni però c'è anche anche questo c'è anche stare in natura e anche questo lavorare tanto e perdere tante 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 patate che stavano crescendo molto bene va bene direi che possiamo cominciare con l'argomento di oggi che è come avvicinarsi a in particolar modo parleremo dell'esperienza nostra come avvicinarsi alla alla comunità di tempo di vivere e qualche consiglio su come diciamo approcciarsi ed eventualmente anche come non approcciarsi questo ci arriveremo dopo e chiedo vogliamo piacerebbe parlare anche in specifico delle nostre esperienze parliamo un po da dal nostro punto di vista direi di partire da qualcosa di concreto per poi per poi arrivare a un po al un po riassumere un po discorso quindi dai parto io con la con la mia esperienza di come effettivamente ho conosciuto tempo di vivere effettivamente mi viene da pensare non ero una persona tanto diversa da quelle che ci stanno seguendo nel senso che ho conosciuto tempo di vivere tramite i video su su youtube in particolare e ho guardato molte molti video io sono uno di quelli che guarda dei video molto lunghi e mi piacciono proprio quelli che hanno un sacco di informazioni dentro e semplicemente ho detto voglio conoscere la comunità di tempo di vivere mi sono iscritto al form al compilato il modulo per lo scambio lavoro ed effettivamente due anni fa ho fatto due settimane di scambio lavoro ed è stato proprio il primo contatto diretto che ho avuto con la con la comunità e questo mi ha dato appunto modo di capire qualcosina in due settimane non si capisce nel senso si capisce qualcosa ma non tutto e ho avuto appunto la possibilità di conoscere dopo queste due settimane ho deciso di aiutare tempo di vivere negli eventi del 2021 che sono stati un campo ragazzi un summer camp e uno youth exchange e dopo appunto queste esperienze sono state bellissime ho conosciuto un sacco di persone mi sono affezionato a tutti a tutti quelli di tempo di vivere e ho deciso appunto di di rimanere anche per l'inverno e dopo il resto è storia quindi praticamente il mio primo approccio con con tempo di vivere è stato appunto lo lo scambio lavoro chi vuole andare avanti allora nella mia esperienza io quando ho cominciato a interessarmi di ecovillaggi prima mi sono tuffato sul sito della rive rete italiana dei villaggi ecologici in cui c'è tutta una pagina dedicata appunto a una breve spiegazione dei tanti ecovillaggi che ci sono in italia e lì ho cominciato un po' a spulciare quali erano le realtà che mi attraevano di più tra queste una era sicuramente tempo di vivere dopodiché cercando su internet il sito di tempo di vivere poi sono arrivato anche ai video su youtube di tempo di vivere e lì ho cominciato un po' a familiarizzare col col discorso coi temi che propone appunto il nostro il nostro ecovillaggio ricordo che c'era un video di un episodio del corso di scollocamento solidale tenuto da ermanno poi c'erano un altro paio di video invece credo che fossero di domande e risposte fatti probabilmente durante il periodo del covid anche sì penso che fosse quello sì se non ricordo male era quello e lì ho cominciato a familiarizzare proprio con i volti di tempo di vivere e quasi posso dire cominciare a conoscerle le persone dopodiché tenendomi informato sul sito ho visto che c'erano i moduli per chiedere appunto lo scambio esperienziale ma c'erano anche i moduli per iscriversi ai corsi al che mi sono iscritto al corso dei sintomi la voce del tuo corpo che era tenuto da Katia e intanto che ero lì mi son detto beh vabbè ma visto che questo corso è adesso se non vorrei sbagliare il lunedì e il giovedì era all'epoca ho tante serate libere non è che ce n'è un altro e ho trovato anche il corso creare comunità tenuto da Gabriella che era in altre serate giustamente beh insomma mi sono iscritto a tutte e due e io ho fatto due mesi che avevo quattro serate a settimana impegnate in cui ero nella famiglia di tempo di vivere chiaro vedevo solo Katia e Gabriella però un po' è stato come un entrare in casa no? e man mano le conoscevo sempre di più perché poi durante questi corsi ovviamente si aprono molto loro si mettono molto in gioco e quindi era proprio un familiarizzare ho compilato la mia richiesta di scambio esperienziale e quando finalmente sono riuscito ad arrivare qui beh insomma un po' mi sentivo già a casa perché alcuni li conoscevo già bene e tra l'altro sì quando mi hanno fatto lo zoom in cui si chiedevano un po' l'orientamento su uno scambio esperienziale cosa ci si aspettava cosa si voleva portare così ho avuto modo di conoscere anche Andrea e la nostra Tania che erano anche loro in zoom a intervistarmi intervistare me e gli altri che avevano fatto richiesta di scambio esperienziale per cui sì pian pianino ho familiarizzato con queste persone prima ancora di arrivare qui quando sono arrivato qui bene o male ero già abbastanza introdotto dopo è chiaro arrivi qui c'è tutto un mondo da scoprire perché bisogna ingranare bisogna mettersi in gioco sì che era esattamente un anno e un giorno fa se non mi sbaglio il primo giorno di scambio lavoro no era il primo giugno perché era il festeggiamento del mio compleanno di un anno fa che era stato fatto il primo giugno sono arrivato quel giorno lì la sera stessa c'è stato il suo compleanno e lì ho vissuto gli apprezzamenti che ho detto mamma mia ma che tradizione meravigliosa e quindi sì diciamo che io mi sono avvicinato a piccoli passi a tempo di vivere quando sono venuto qua fisicamente un po' diciamo io conoscevo già loro e loro conoscevano un po' me perché ovviamente non c'è stato solo lo zoom per gli scambisti come li chiamiamo ma anche nei corsi siccome non sono solo corsi frontali si partecipa si fanno stanze di discussione anche lì ognuno porta se stesso per cui si comincia proprio a fare conoscenza prima ancora di incontrarsi fisicamente e questo per me è stato molto bello è stato un valore aggiunto anche io in realtà più o meno la stessa storia a un certo punto ho pensato mi scavedeva il contratto di lavoro ho detto facciamo qualcosa che non ho mai fatto cioè non lavorare per un po' e siccome mi interessava andare in vacanza ma volevo esplorare qualcosa di veramente diverso e ho detto proviamo a girare qualche ecovillaggio mi sono fatto una bella scorpacciata di... più che altro io di video su youtube interviste c'erano dei video di persone che giravano gli ecovillaggi mi sono segnato un po' di nomi e li ho contattati Tempo di Vivere tra l'altro Tempo di Vivere sono i quelli che mi ha risuonato di più e non so dire perché non c'era qualcosa in particolare in queste interviste che mi richiamava però ho detto questi mi interessa andarli a conoscere tra l'altro erano i più vicini a livello proprio chilometrico a casa mia solo a un'ora e mezza un'ora e tre quarti di strada e ho detto partiamo da lì partiamo dal punto più vicino e... ho fatto anch'io questo famoso zoom tra l'altro è lo primo zoom della mia vita quindi ero tesissimo non sapevo neanche che cos'era il 2021 sono un po' indietro su certe cose e si ho iniziato a girare devo dire che ero andato anche un po' su facebook su gruppi ecovillaggi ce ne sono parecchi e mi ero fatto un primo schemino per il primo mesetto mesetto e mezzo di viaggio volevo partire mi ero dato un budget di tre mesi e quando andavo nelle varie realtà chiedevo anche lì chi era presente che in realtà avevano visitato anche gli stessi abitanti dell'ecovillaggi se avevano scambi conoscenze con altre realtà che ritenevano interessanti e valide e sotto consiglio poi questo viaggio è durato un po' di più e i contatti che sono io mi ero segnato due o tre due realtà tre realtà quelle venute dopo sono arrivate tramite consiglio da persone anche qua presenti a tempo di vivere che hanno detto guarda noi abbiamo un po' una conosciamo quelle persone conosciamo quella realtà e ho girato un po' il mio approccio è stato appunto il primo approccio è stato girare il più possibile facevo periodi di due settimane di media 20 giorni 10 giorni in un posto sono stato 5 giorni non mi ero trovato molto bene ed è durato poco e va bene così però effettivamente come diceva Andrea due settimane è il minimo per iniziare a capire dove ti trovi con tempo di vivere ma anche con altri con altri luoghi dove poi non è più accaduto è capitato che ci si è trovati bene reciprocamente e quindi una cosa che doveva essere due settimane magari è diventata tre settimane e io ringrazio sempre non mi ricordo se era Katia o Gabriella ma che all'epoca quando sono andato via primo posto devo stare qua due settimane e poi nella mia testa tornare all'epoca a casa mia cinque giorni poi ripartire tornare dieci giorni volevo prendermelo proprio molto con calma e invece sono rimasto di più per poi partire andare direttamente dove avevo preso già impegni e Katia o Gabriella mi hanno detto avevamo partecipato insieme al campo ragazzi sì e tu sei arrivato che io ero lì da pochi giorni sì sì io ero ritornato dopo un mese che avevo fatto lo scambio di lavoro esatto e non dovevo essere c'è campo ragazzi poi ci siamo trovati insieme e mi hanno detto per te sarebbe secondo me il summer camp nella via del cerchio ti farebbe bene ma non è stato quello il senso per me tu dovresti partecipare al summer camp eh ma sai ho già tutta la mia tabellina organizzata niente alla fine ho detto ok vengo al summer camp ho ridotto perché avevo tutto più o meno incastrato avevo qualche giorno al summer camp erano dieci dodici giorni cioè dieci giorni ma poi c'era tutta la preparazione più dopo c'era il compleanno di Pietro a cui volevo partecipare quindi ho ridotto un po' una permanenza ridotto ulteriormente quell'altra e mi sono incastrato lo slot arrivo al summer camp mi ricordo che era la sera prima del primo giorno del summer camp mi ricordo ancora arrivato con lo zainone eh mi ricordo quella sera che eri arrivato arrivato tra l'altro arrivavo dalla Toscana un viaggio lunghissimo per mille cose ero rimasto incastrato con la macchina sono riuscito a ripartire e poi lì mi è stato detto ma ci sarebbe anche lo iutexchange che nominavi che è stata un'altra esperienza bellissima anche lì ma sì dai riesco l'ho incastrato e poi ho conosciuto persone di altri covillaggi che poi sono andato a visitare e quindi sì tanto tanto informarsi e poi anche strutturare una parte e poi un po' vedere quello che ti richiama le conoscenze che fai e quando inizi a girare queste realtà conosci tantissime persone conosci tantissimi luoghi sei bombardato di stimoli perché è tutto nuovo cos'è appena arrivato qua c'era un corso sulla facilitazione ci ho messo tre giorni a spiegarmi cos'era una facilitazione non sapevo cos'era la via del cerchio adesso per me è una delle cose per me più fondanti Donio non ho mai fatto università non ho mai quasi mai viaggiato pochissimo verso l'estero ho fatto uno Utex Change senza partecipare a uno Utex Change ero qua come volontario e quindi sì ecco diciamo che noi tre siamo arrivati in questo modo classico e sì io ho viaggiato un po' più di voi due ma alla fine parti con molta testa giustamente ti fai uno schema e poi ti fai condurre dal cuore quando iniziare a farti condurre dal cuore per me è già un bel momento di rottura rispetto alla vita di prima benissimo allora intanto salutiamo Orietta e Raffaele quindi direi che partiamo con un po' il la cosa che un po' accomuna tutto il discorso di avvicinarsi che è la la conoscenza alla fine all'inizio all'inizio c'è comunque bisogno di si dice la parola annusarsi cioè conoscersi un po' dalla parte di chi arriva che vede una realtà diversa persone completamente nuove un modo di vivere sicuramente diverso e particolare ma anche dalla parte di chi vive appunto all'interno della realtà che vuole conoscere chi arriva insomma chi gli arriva tra virgolette in casa anzi effettivamente chi gli arriva in casa e questa è appunto il primo il il primo gradino che comunque bisogna bisogna passare e sì cosa c'è da aggiungere un attimo hai detto te che poi ogni realtà a se stante c'è chi fa woofing che è più improntato su un proprio uno scambio lavoro quindi manodopera in cambio di vito allogge dove c'è una conoscenza noi qua ci interessa sicuramente anche un aiuto pratico e manuale manuale nel senso pratico ecco perché d'estate soprattutto facciamo tante cose benché siamo tanti per tutto quello che abbiamo in mente di fare facciamo forse non siamo così tanti siccome comunque abbiamo voluto cambiare vita sì ci facciamo un bel mazzo però anche avere un aiuto esterno a volte ci è utile sicuramente ma quello che ci interessa è conoscere persone quindi infatti più che scambio lavoro noi lo chiamiamo scambio esperienziale poi per ridere tu hai nominato la parola scambisti per ridere noi le persone che sono qua in scambio lavoro scambio esperienziale li chiamiamo scambisti ovviamente molto equivoco lo facciamo appositamente appositamente per rendere tutto più piccante io e Andrea tra l'altro abitiamo da due anni da sempre nella camera scambisti dove starebbero gli scambisti in realtà stiamo io e lui più i tre letti che avanzano in due anni che siamo lì non abbiamo mai scambiato nulla se non del gran russare e a volte dei venti notturni ma quella è un'altra cosa però sì lo scambio dopo potremmo dire un aneddoto di uno scambista che ha fatto un numero incredibile comunque già per spezzare dire qualcosa divertente comunque il senso è si va c'è da fare quindi non è che si va a fare scambio esperienziale in un posto che magari ha bisogno di noi vabbè abbiamo le nocciole l'orto la cucina gli eventi una una persona che è stata qua in scambio lavoro che ha vissuto in Inghilterra ha aiutato i bambini per gli esami che devono avere in inglese ha fatto conversazioni in inglese con i nostri ragazzi quindi di vario tipo però abbiamo bisogno di un aiuto anche perché dormi mangi conosci vai quindi ci sta un piccolo scambio uno scambio però il senso è conoscersi come persone perché se tu stai girando gli ecovillaggi vorrai capire se può essere per te la vita comunitaria o scoprire cose nuove e per una comunità è importante conoscere persone nuove e poi nella vita si deve lavorare perché dobbiamo fare delle cose se vogliamo campare mangiare tra cui bisogna cucinare se vogliamo mangiare se nessuno cucina nessuno mangia quindi però il senso è conoscersi sì l'idea appunto dello scambio esperienziale rimarchiamo perché scambio lavoro viene più comodo da dire però appunto scambio esperienziale non è solo venire qua per usare le mani fare i propri turni di lavoro è finita lì e anche provare integrarsi con la vita della comunità proprio per sperimentare per capire se la vita della comunità nella fattispecie di quella che vai a visitare voglio dire fa per te se fai semplicemente i tuoi turni e poi ti chiudi in camera a dormire o a giocare col cellulare e insomma è proprio solo lavoro e alla fine ti fai gli affari tuoi quindi non c'è nessuna esperienza umana o quantomeno è molto limitata ok quindi c'è appunto questa conoscenza all'inizio che ci che ci deve essere e eventualmente altri altri tipici adesso noi abbiamo avuto come primo appunto prima esperienza lo scambio lavoro e Fulvio ha avuto come primo come primo approccio i corsi beh oppure altri esempi beh sì un'altra comunità che ho approcciato appunto sì esatto tutti gli eventi ero stato a un open day di questa comunità che c'era su nel Varesino e sì mi aveva mi aveva interessato e ho fatto la richiesta di scambio lavoro esperienziale mi è scappato di nuovo e quindi sì ho fatto i 15 giorni di scambio esperienziale dopo aver visto un open day esatto quindi l'open day può essere un primo approccio che ovviamente è proprio un aperitivo anche quelli online ma con gli imprese cioè parliamo chiaro adesso noi qua con noi abita l'alicia e il suo primo approccio con tempo di vivere è stato per summer camp di tre anni fa mi pare e poi è tornata l'anno scorso per la prima edizione delle orme della tribù tribù avevamo qua Nadia che aveva partecipato alle orme della tribù poi è tornato è tornata Nadia che saluto ciao Nadia ciao Nadia ciao stiamo ancora io sto ancora ascoltando le canzoni che mi ha consigliato intanto che è stata qua è stata una bellissima serata e comunque l'evento sicuramente e soprattutto gli eventi che noi proponiamo perché come abbiamo già detto gli eventi che noi facciamo non sono eventi facciando allocation per degli eventi a caso noi facciamo eventi legati al nostro mondo quello che noi portiamo avanti in comunità quindi partecipando ai nostri eventi come dicevi te noi ci apriamo ma perché portiamo fuori noi essenzialmente come queste dirette dove noi parliamo di noi insomma non facciamo troppa teoria parliamo di quello che viviamo quindi già quello è un modo per conoscerci e sicuramente gli eventi ma non solo per noi per in generale per per le comunità raccontano molto poi di chi sono le persone di che cosa si fa e dell'interesse che si ha quindi poi ogni comunità è completamente diversa quindi puoi guardare tutti i video che vuoi su youtube le interviste e fartelo raccontare da chi ci ha vissuto potrebbe in parte essere più realistico ma alla fine devi andare lì conoscere le persone capire il progetto che c'è dietro e pucciarci le mani cioè devi metterti lì e vivere delle esperienze se no è una roba manualistica ed è tutto il contrario di quello che noi vogliamo vogliamo portare avanti cioè noi vogliamo vivere sì ok ci sono i valori e tutto quanto ma non può essere teoria è pratica tutta la nostra vita tutte queste realtà sono pratiche quindi fate anche lì questo grande consiglio è conoscere comunità l'unico modo è conoscerle viverle non c'è molto altro da da dirvi scegliete un punto da cui partire e poi continuate a seguire se quella ritenete possa essere la vostra strada mi aggancio proprio a questa cosa nel senso che ancora prima della diciamo appunto della conoscenza c'è proprio il contattare la comunità e stiamo entrando già nel come ed è interessante esatto e appunto come contattare una comunità dipende dalla dalla comunità per esempio noi abbiamo appunto il modulo per lo scambio lavoro se vuoi fare scambio lavoro quindi c'è la parte sul sito proprio scambio lavoro e ci si può registrare per tutti gli eventi sia online sia in presenza c'è sempre di riferimento il sito nel senso che ci si può appunto iscrivere agli eventi in generale e qua direi che sì per quanto riguarda le altre comunità la cosa che consigliamo in generale è quello di informarsi sul sito quali sono i modi per potersi appunto approcciare avvicinare a queste realtà perché ogni realtà è diversa ogni realtà ha i suoi metodi perché comunque quella parte un pochettino dolente che vogliamo un attimo affrontare è il come non approcciarsi a una comunità perché purtroppo ci capita ogni tanto di di ricevere magari delle email o delle chiamate dove si si parte subito dove si è pronto senza dire neanche come senza dire neanche il proprio nome così come si può venire a vivere lì domani no questo questo picco ed è come se una una persona completamente strana ti chiamassi dice come posso venire a vivere a casa tua domani non è esattamente il modo corretto cioè ovunque anche perché adesso dico questa cosa potrà sembrare banale ma non lo è perché a volte ci rendiamo conto che non è scontata le comunità gli ecovillaggi benché si hanno molte non tutte luoghi aperti cioè che hanno un contatto col pubblico ma non sono luoghi pubblici questa è casa nostra quando entrate in una comunità in un in un ecovillaggio in un progetto siete in casa di quelle persone sono persone che vi aprono la porta se hanno possibilità barra tempo barra voglia di aprirvela quindi ricordiamoci sempre che state entrando si entra in casa di altri chiaro che c'è la voglia di uno scambio di una conoscenza ma quando entri in casa di un altro appunto ti informi vorrei venirti a trovare ok mi interessa che mi viene a trovare come posso fare per saranno le comunità stesse a dire un po' quelle che sono le loro procedure possono essere simili ma banalmente chiedere in che periodo avete bisogno avete bisogno di qualcosa di specifico e capire perché se ad esempio una comunità è vegana vi dirà noi facciamo da mangiare solo vegano se diversamente una persona è vegana quella comunità vi dice ma noi abbiamo gli animali abbiamo la fattoria con gli animali e magari la carne riesco a evitare però le uova e il latte siccome noi viviamo quasi tutto di autosufficistenza perché è importante per noi quindi ti dico che non posso garantirti che non ci sia mai né latte né uova perché se no siamo in 30 e devo fare un piatto apposta per te e comunque dovrei comprarlo ma per me è importante l'autosufficistenza faccio un esempio a caso capire che non è che puoi arrivare lì dire ah io voglio quello puoi chiederglielo c'è possibilità perché magari quell'altro dice sì sì assolutamente non c'è problema come qua tempo di vivere le persone non sono tutte vegane ma c'è sempre un'alternativa vegana sempre comunque perché ci sono vegani in comunità o ci aspettiamo ospiti vegani ma siamo noi e da altre parti io all'epoca ero strettamente vegano sono andato in posti dove da mangiare c'era dentro l'uovo delle proprie galline perché le galline c'è mangiare le galline scegli o non mangi è una tua scelta o mangi quel che c'è ma devi sempre ricordarti che non sei al ristorante per cui tu paghi chiedi e quello ti dà non è quello il senso stai intanto in casa d'altri per cui questo è importante la comunità non è una struttura ricettiva esatto è più una famiglia è più simile a una famiglia è una casa quindi se in una casa dei giapponesi ci si tolgono le scarpe si va in giro con le calze rispetti quello se vabbè io vado in giro sempre a piedi nudi ma se io a piedi nudi da una parte mi dicono non gradiamo avere la gente in casa a piedi nudi mettiti le ciabatte o le scarpe ti metti le ciabatte e le scarpe se per te è un problema portare le scarpe o non portarle chiedi oh a casa tua si portano o non si portano le scarpe e la risposta può essere sì o no come portarsi il cane eh altre cose ma noi non ci vediamo dietro una cattiveria o una mancanza di cura assolutamente e che non ci si pensa a certe cose e quindi non so vuoi già iniziare te con quindi con noi vorremmo mettere le cose a non fare perché è anche più simpatico quindi la buttiamo in ridere però pur magari esagereremo però sono cose importanti noi adesso siamo quelli che che questa è casa nostra no siamo stati anche quelli che in casa degli altri c'entravano avendo fatto entrambe le esperienze la buttiamo lì anche un po' magari possiamo anche un po' metterla su ridere stasera siamo stati troppo seri nelle ultime puntate però insomma sono consigli molto reali e molto pratici quindi volete partire voi quello a raffica cosa viene in mente non allora non mi viene in mente una cosa particolare non inviare una mail su come si vuole come si si vuole personalmente fare appunto in un ecovillaggio per esempio si voglio venire però voglio mangiare vegano voglio portarmi il cane voglio la stanza privata e voglio questa è già un una cosa come per dire pretendo di di avere questo e poi mi viene in mente sì sicuramente la chiamata senza senza neanche presentarsi senza neanche dire chi chi si è come ci si chiama e dire voglio venire a vivere lì non ti conosco non 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 so nemmeno chi sei mi stai chiedendo di venire a vivere qui questo è un po' il poi altre sì questa cosa che dici l'ho vissuta personalmente almeno un paio di volte sì telefonate del genere io sono così e sì sono separato ho appena lasciato il lavoro adesso non so sto andando un po' un po' a memoria e stavo pensando di andare a vivere in una comunità ma io so fare tante cose so fare questo quest'altro il muratore il maniscalco non lo so tante che potrei essere molto utile e ho capito però cioè per inserire una persona in comunità appunto c'è bisogno prima di conoscenza non è che mi arrivi qua perché sai fare tante cose pronti c'è la tua camera c'è posto per te ti sistemiamo subito no non funziona così eppure sì ci sono alcune persone che telefonano con questa con questa spinta ti lasciano anche un po' spiazzato perché non è non è che si voglia chiudere la porta in faccia a nessuno però sì mi arrivi come un'ondata no ecco pronto ti porto il mio prodotto e piano non so se ne ho veramente bisogno comunque ragioniamoci sicuramente telefonare e dire come faccio a venire a vivere lì oddio mette già subito tutti un po' in allarme è una situazione difficile da gestire una grossa non presentatevi senza avvisare grande classico arrivo lì tanto noi stiamo a mezz'ora di strada dal primo luogo abitato ma è un abitato relativo cioè se non ci vuoi venire a Bettola non è che ci passi a un'ora da Piacenza che è già un luogo più di passaggio è vero abbiamo le cascate del perino di fianco per cui in realtà la gente viene anche per guardare le cascate però sai passavo di lì non è come andare in giro in centro a Milano e vedi un negozio e dici ma si ci entro cioè qua per venire qua ci devi voler venire qua arrivi magari con lo zaino la borsa all ciao ciao volevamo venirvi a trovare frase tipica avevamo pensato di telefonarvi o mandarvi un e-mail ma poi abbiamo detto ma no stiamo nel fluire arriviamo e vi baciamo una sorpresa è bella sorpresa è bella sorpresa quindi e quindi niente guardate ci fa piacere che abbiate pensato a noi ma ed è capitato in questo momento siamo impegnati occupati abbiamo un evento non ho tempo ti posso stringere la mano sapere come ti chiami dirti come mi chiamo io e dirti guarda io ero là a fare quella roba ti saluto e torno là ma quindi rimango qua a mangiare ci fermeremo una settimana abbiamo il camper ma dormiamo anche in macchina no no perché ok l'ospitalità è una cosa importante non è che uno arriva citofona e dice ribaltiamolo sulla casa privata se lì a casa con la forchetta in mano e magari appena finito e fa una roba vuoi passare del tempo con i tuoi figli no si pronto ciao sono uno che voleva conoscerti vengo su e mangio con te ma poi per dormire dormo in cantina non c'è problema no giù fine poi non vogliamo dire no non presentatevi vi è venuto il pensiero di telefonare era un pensiero molto corretto avvisate non lo sapete se l'altro ha possibilità tempo e anche voglia perché magari se arrivavate quando noi stavamo facendo la nostra facilitazione i due giorni in cui la comunità ha lavorato sulla cura del progetto e arriva uno ha una domanda da farti in quel momento io non ti do neanche una risposta perché siamo concentrati su di noi come se una coppia una coppia fosse lì in intimità poi arriva uno fa vi posso chiedere una cosa cioè no cioè entriamo anche in questa è una scena è una scena del genere ma più o meno noi siamo una comunità però a volte abbiamo oggi abbiamo festeggiato un compleanno esatto avevamo il piacere di stare con Andrea aveva invitato anche delle persone che si sono fatte anche quattro ore di macchina per essere qua arriva uno e fa ma potremmo parlare un'ora di chi siete e cosa fate no c'è un open day ci sono dei giorni c'è il tempo di salotto me lo dicevi ti dicevo di venire venerdì piuttosto che o all'open day che sono comunque dei giorni che mettiamo proprio apposta per le persone che vogliono appunto avere questa prima conoscenza venire a fare domande sono proprio dei giorni qui apposta che diamo apposta che ricordiamo tra l'altro 10 e 11 di giugno il prossimo open day esatto 10 e 11 di giugno ah e ormai della tribù dall'1 al setto set set oddio guarda vado a continuare 7 giugno abbiamo le orme della tribù laboratorio di vita comunitaria quindi è la cosa di cui stiamo parlando dall'1 al 7 abbiamo ancora qualche posto quindi c'è possibilità di schicciare una persona ieri ci ha disdetto quindi abbiamo dei posti è un altro quello è un modo un po' più breve dello scambio esperienziale perché appunto dura 5-6 giorni in cui si fa si fa la vita della comunità non è uno show si fa proprio la vita della comunità con tutti gli orari i turni tutti i turni di lavoro tutte le cose che ci sono da fare si sperimenta e intanto ci si può rendere conto se quella comunità tipo nella fattispecia la nostra può avvicinarsi alla vostra idea di comunità toccando con mano degli altri non presentatevi col cane il gatto il papagallo perché non è che se un luogo è immerso nella natura ha per forza spazio per i cani noi ad esempio abbiamo due cani di cui uno se vede un altro cane maschio e il nostro pesa una quarantina di chili diventa molto aggressivo e ingestibile e soprattutto mette in difficoltà il nostro cane l'altro cane noi non abbiamo piacere tenere i cani in casa non ci stanno i nostri quindi non ci stanno i cani in casa neanche quelli degli ospiti può piacere non piacere non siete d'accordo ripeto è casa nostra decidiamo noi se i cani stanno non abbiamo spazio da dedicare ai cani se non la nostra area cani dove c'è il nostro cane che non gradisce la presenza di altri cani ci mette in difficoltà quindi avete il papagallo noi abbiamo avuto un ospite e è venuto il papagallo noi abbiamo tre gatti di cui due sono ottime cacciatrici lui aveva un camper e teneva il papagallo in camper ce l'ha chiesto abbiamo trovato un accordo ma se si presentava lì col papagallo dicendolo deve stare sulla mia spalla tutto il giorno ed entrava in sala in sala c'era il gatto forse non c'era più il papagallo non c'era più il papagallo oppure non possiamo sapere in certi luoghi possono avere le galline libere tu arrivi col cani e gli fai secche tre galline non lo puoi sapere il senso non è non potete fare il senso è il senso non è non ci piacciono gli animali no assolutamente ma chiedere è una questione pratica magari noi da un altro ti dice hai cani bellissimo portane 20 perché noi adoriamo gli animali e abbiamo la possibilità insieme e ci fanno felice abbiamo i bambini le cose specificate chiaro che se ti porti una chitarra non c'è problema non è quello il punto e un altro non non mandate il curriculum non dite che cosa potete apportare noi potremmo dare alla vostra comunità questa cosa di quelle che sono le tue passioni nel caso quello quello che fai perché quelle che sono le tue non competenze ma appunto i tuoi doni che puoi portare ma non dire cosa potrei potrei migliorare la comunità con questo mio aspetto non sai neanche chi sono come faccio e cosa faccio è già un atteggiamento un po' giudicante piuttosto fai una domanda io sono molto interessato di erboristica ma voi raccogliete spesso erbe spontanee cioè vi può far utile una persona che ha le mie competenze svilupparlo o posso io imparare e la risposta può essere no guarda noi non ci interessano erbe spontanee noi non ci interessa coltivare le patate poi state a dire no guarda a me le patate non mi interessa coltivarle mi stanno antipatici gli istrici oppure no io fisicamente faccio fatica e magari dire guarda in quel periodo avremo bisogno di raccogliere le nocciole ti devi chinare e no io ho un problema alle gambe alla schiena alle mani alle orecchie ho bisogno della camera singola le camere singole non ce le abbiamo noi che ci abitiamo non è cattiveria chiedete se uno dice guarda per me la mia prevese è importante e non riesco a superare questa cosa non è un problema ci siamo ascoltati ci siamo conosciuti piuttosto venite a un open day ci si vede ci si saluta si parla si mangia si mangia si mangia o magari avete qualcosa una collaborazione da proporci ma senza che voi venite a vivere qua ma un'idea di scambio oggi ce ne sono arrivati in questi giorni ce ne sono arrivate ditecelo vengo vi conosco e possiamo fare questa cosa insieme mi è sempre un chiedere non è mai pretendere è come se non sei ancora entrato in casa di uno e gli dici ma io saprei come abbellire casa tua redarla meglio e buttare giù le pareti e fare gli spazi più ampi fichi non sei mai stato in casa mia ma cosa vuoi da me tu lo faresti entrare in casa uno così per me no benissimo direi che abbiamo abbastanza sviscerato l'argomento chiederei prima di fare una piccola diciamo aprire un argomento leggermente diverso ma riguarda sempre una sorta di di avvicinamento di persone chiederei a chi ci sta seguendo di partire con le domande se ci sono domande su quello che stiamo su quello che stiamo trattando e sì vorrei ricordare che il vivere all'interno della comunità e diventare diciamo parte della comunità non è l'unica opportunità che offriamo da quando abbiamo deciso insomma di comprare questo casale diventare parte della comunità non è più l'unica opportunità ma anche il fatto di avvicinarsi e prendere comunque un un posto vicino creare comunque una propria realtà o comunque vivere vicino alla comunità mantenendo la propria la propria autonomia però comunque avendo la possibilità di collaborare con noi in qualche modo se volete aggiungere qualcosa a dire sì la stiamo oggi parlo io sono un gran chiacchierone si vede che sono quello meno appesantito dal dal pranzissimo dal pranzissimo in realtà parlo sempre molto quindi non cambia molto non è colpa del pranzo no beh l'idea ma ne abbiamo già parlato penso tante volte ed è stato molto bello perché appunto all'ultimo open day questa cosa l'abbiamo sviluppata a fondo riteniamo che ogni comunità ha una sua identità e magari ci sono persone che non si possono riconoscere in tutto in quello che è un certo anche stile di vita cioè un modo molto pratico di vivere per però ci sono molte persone che sentiamo vadano nella nostra stessa direzione semplicemente hanno un modo un'idea diversa di farlo per cui non vogliono stare in venti gomito gomito condividendo tutti i pasti le stanze e tutto il resto sono persone che non sposano l'economia condivisa che è quello che portiamo avanti noi persone che vorrebbero mantenere una loro autonomia individualità pur entrando in qualcosa di più grande portando avanti un progetto comune e quindi l'idea è stata anche perché noi siamo quasi alla saturazione in questo posto quindi potremmo includere ancora un po' di persone ma non possiamo andare avanti all'infinito a cogliere se questo gruppo rimane stabile può entrare ancora qualcuno e poi questo posto fisicamente non potrà contenere tutte quelle persone e non ci saranno attività per tutte quelle persone quindi l'idea è stata ma perché tante persone che viaggiano nella stessa direzione devono sentirsi obbligate o a stare con noi dentro di noi o a non farlo a non collaborare e la collaborazione per noi parte anche da una vicinanza fisica perché se stiamo a 5 ore di macchina per quante cose possiamo fare ma nel concreto noi vogliamo tornare alla concretezza e agli antichi mestieri anche diventa difficile e la Valperino è un luogo bellissimo ma come molte zone bellissime di montagna è anche abbastanza spopolato ci sono tante case vuote le stiamo un po' iniziando a mappare alcune molto noi le cerchiamo molto vicine a noi tipo 5 minuti a piedi ma è vero che basta che prendi la macchina e fai 5 minuti in macchina e già si aprono altre possibilità paesini che hanno tante case vuote e anche sto iniziando a nasare piccole realtà agricole piccole aziende agricole che magari vogliono vendere affittare affittare ramo d'azienda e possono essere delle possibilità sconosciute perché non è che puoi mettere un cartello fuori qua dire affittasi azienda agricola e la gente ti passa davanti è una cosa tutto a chiacchiere a parole noi stiamo portando avanti un nostro progettino agricolo ma magari qualcuno ha voglia di un suo progettino agricolo però magari da lui gli istrici non gli vanno e quindi lui le patate le coltiva comodamente ma noi qua abbiamo idea di mettere giù tante piante di kiwi perché noi li mangiamo e quindi e perché ci hanno detto che vengono e magari i nostri kiwi le nostre nocciole perché insomma non tutti possono mettere giù 1200 piante di nocciole noi ce l'abbiamo già le sue patate uno fa le api dico cose così e insieme costruiamo qualcosa di bello di importante di grande e ognuno lo fa alla proprio modo e maniera e ben venga perché una volta dove un modo può non andare bene ce n'è già uno pronto che funziona e e oltre alla sopravvivenza almeno di uno dei due ci può essere uno oh cavolo c'ho sto problema che non risolvo tu come l'hai risolto io faccio così e questo problema non ce l'ho ok grazie però però io avrei quest'altro problema ah no quella roba lì è una vita che la affrontiamo e abbiamo questi strumenti non ti sei mai trovato in quel problema e non hai mai trovato una soluzione oppure l'hai già trovata e aspetti solo di condividerla e quindi sì anche il il poter fare anche queste cose noi la stiamo portando avanti tantissimo come in realtà in questo momento tutto nasce dalla conoscenza perché non so neanche chi sei vengo di fianco da te e avviamo una cosa insieme giustamente prima prima conosciamoci ecco però sì c'è anche questa possibilità che è lo scopo per cui compriamo il casale non tanto solo per noi avere una casa di proprietà ma perché questo dà la possibilità di radicarci di essere appunto stabile esatto per cui se noi si radichiamo un'altra persona ci si avvicina un altro crea insomma è molto facilitante poi avvicinarti a un progetto stabile e quindi consolidarti radicarti e penso che sia il sindaco che ti dice possiamo fare molte cose insieme poi io non lo so se faremo cose insieme però certamente anche le istituzioni nei confronti di tante persone che si muovono in una direzione non possono rimanere completamente indifferenti e non sei più solo e hai inizi a avere contatti e magari tu ti trasferisci c'hai il vicino di casa che io non conoscerai mai perché io sto qui e non sto a tre chilometri di là per quanto iniziamo a provare a avere relazioni fuori ma abbiamo molte cose da fare qui dentro quindi non riusciamo a conoscere tutti e invece vediamo che questa cosa se sviluppata può aprire infinite possibilità perché basta uscire parlare con uno dopo un quarto d'ora ma sai che quello là fa quella cosa noi abbiamo scoperto che qua dietro coltivano i kiwi fanno piantagioni di kiwi non l'avrei mai pensato sì sì l'ho scoperto me ne ha detto quello che gestisce le acque noi qua abbiamo l'acqua di fonte c'è il consorzio agrario e parlavamo di acqua di fonti sono molto carini e fa dietro dall'altra parte della montagna vanno i kiwi voi qua non avete problemi di acqua secondo me se piantate i kiwi qua i kiwi vi vengono noi mangiamo un sacco di kiwi un botto vogliamo mettere giù piante da frutto pensate una chiacchierata con quelli del consorzio agrario che erano venuti a chiuderci o aprirci un troppo pieno ragazzi ma quante cose si possono fare ma a parte che là dietro c'è uno che già li fa i kiwi ma invece che comprare il supermercato magari vado a prendere là vado là oh chi fa i kiwi e magari non mi metto giù i meli perché loro mi dicono ma noi ci piacerebbe avere le mele non lo so mille cose e magari sei te quello che ci stai guardando quello che metterà giù le piante di melo non lo so però sì stanno arrivando le domande no in realtà no e quindi chiedo di fare delle domande per chi per chi ha comunque qualche qualche domanda da fare perché questo è proprio il momento il momento dove si possono fare le domande a me sembra che comunque abbiamo toccato abbastanza tutto sì c'era un altro un altro argomento che sempre a riguardo a chi viene effettivamente qua tipo in scambio esperienziale un modo per non arrivare qua sicuramente è quello di io ho questo progetto quest'altro progetto voglio coltivare la tal cosa non so voglio avviare un laboratorio per fare gli oleoliti di non so neanche io di tulipano ve la butto lì perché non so neanche io di cosa sto parlando cioè capitemi bene che se vieni qua per 15 giorni e poi te ne vai avviare un progetto e poi chi lo porta avanti anche questo cioè va bene portaci pure le tue conoscenze parlandone non pretendendo di venire qua e avviare qualcosa che magari ha un costo richiede uno spazio e poi fra 15 giorni te ne vai ti porti via tutto e questo per esempio anche questo non è un modo per approcciarsi inizialmente alla comunità queste sono cose che poi se eventualmente entri nella comunità puoi cominciare a dire ma io vivi in mente questa cosa come giustamente per esempio adesso Andrea sta facendo con tutte le sue idee sulla sostenibilità sostenibile dal punto di vista energetico ma lui non è qui da 15 giorni quindi insomma ha già cominciato a conoscere quali sono i bisogni dell'ecovillaggio anzi conosce bene capire un po' su cosa ci si può muovere quanto si può investire quanto tempo quante energie ci vuole un po' per entrare nell'organizzazione quindi calma e osservazione fare più domande che dire vengo io e ti spiego sì prima capisci di cosa ho bisogno poi spiegami se ce l'hai la soluzione ingrasso non fare dai lo diciamo altro ecco qua finora abbiamo detto come approcciarsi come arrivare una volta arrivati arrivati lì cioè arrivati nel luogo primo momento è conoscenza quindi cosa devo fare l'orto la cucina i bambini non lo so primo momento è di esplorazione aprirsi chi sono da dove vengo cosa mi aspetto ecco bello dire cosa mi aspetto da questa esperienza perché sto viaggiando e quindi prima conoscersi umanamente un grosso non fare se è arrivato da dieci minuti ti si fa vedere l'orto è uno lì nell'orto che fa le sue cose com'è che fate quella cosa lì eh no guarda facciamo così così eh no 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 perché fu cuoca diceva che mimo ma ah io ma no io ho studiato tanto questa cosa questa cosa non si fa così si deve fare colà così come fate non va bene si farebbe in quest'altra maniera allora a parte sto esagerando però non potrebbe dire guardate come mai non adottate questo metodo lo conoscete non lo conoscete l'avete valutato è una cosa no guarda magari risposta guarda ci avevamo pensato però non abbiamo tempo strutture mille ragioni guarda si effettiva eh no no non si fanno così le cose è chiaro che se entri in casa di uno e gli dici la prima cosa gli dici ah piacere vedo che non capisci un cazzo eh non è perché ti stai molto aprendo uno scambio diverso è dire ho notato una cosa e mi ha fatto pensare perché nella mia esperienza ho visto anche quest'altra l'avete mai valutata? si no perché? ah si potrebbe essere interessante guarda se vuoi te la spiego no guarda l'abbiamo valutata non è fattibile ah ok grazie per me è una cosa molto interessante ma se non avete la possibilità di capisco perché noi è chiaro che vorremmo mille cose siamo guidati da mille ideali e valori e abbiamo un punto d'arrivo poi ci si scontra con la praticità per cui anche entri in cucina cosa c'è da cucinare? mi dai una mano facciamo la pasta eh no però questa pasta non è bio grano antico macinata a mano da un vecchietto sotto un ponte di baracca è esagerato adesso un po' esagerato esageratissimo no ma ma mangiate molto glutine per esempio noi mangiamo un sacco di glutine è vero però guarda se è appena entrato in cucina magari nasa come è organizzata la struttura puoi dire guarda io so fare molto bene la quinoa se aveste della quinoa bella cucina avete mai valutato la quinoa sì ma costa un casino punto sì ma non la mangiamo sì ma non pretendere porta il tuo ma porti il tuo dopo aver conosciuto il tuo portare è un ti potrebbe interessare e per me questa è una cosa molto importante anche perché apri la possibilità a tutte e due di uno scambio reciproco a noi ci interessa conoscere e non pretendiamo il lavoro o i turni o adesso fai così quella cosa anche se a volte ci tocca dire fai così quella cosa perché se entri in orto e io devo piantare la piantina lì tu non me la puoi piantare là ma deve essere reciproco scambio per cui nel momento in cui ti ho conosciuto nel momento in cui capiamo che abbiamo valori in condivisione esperienze e conoscenze sono pronto ad ascoltarti se da parte tua c'è la curiosità di capire chi noi siamo se entri in casa degli altri per dirti per dirgli neanche che casa tua è più bella perché tu in comunità se stai girando in comunità non ci vivi quindi non lo sai com'è vivere in comunità perdonami però è così l'approcciarti del bella casa tua cioè bella casa tua carina casa tua ma io la arrederei meglio torno a ripetere è una cosa che non funziona non è bella quindi per favore non fatelo ok allora intanto Orietta ci scrive verrò a trovarvi per l'open day di giugno e chissà se un giorno potrò piantare un melo assieme a voi e colgo l'occasione per fare gli auguri di buon compleanno grazie grazie mille e di nuovo scrive credo che si debba entrare in punta di piedi nella vita delle persone è un po' il discorso che mi ha fatto prima poi c'è Agnese che chiede quali sono i requisiti o le caratteristiche a cui date particolarmente importanza affinché una persona che è rimasta con voi un periodo di tempo possa entrare definitivamente è una domandona domandona non c'è un prontuario di caratteristiche anche perché questo è un modo di ragionare se vogliamo un po' aziendalistico cioè quali competenze hai caratteristiche mi risuono un po' competenze sì è un po' strano forse una sola cioè innanzitutto come dice Fulvio uscire dall'idea quali sono le caratteristiche o quali sono le cose più importanti ci sono tante cose importanti e questa è una vita che finché non inizi a fare non sai dove ti porterà e non sai cosa tirare fuori di te punto quindi anche quando ci si conosce noi conosciamo l'ha perso io e lui ma anche noi tre io e lui ci siamo conosciuti due anni fa più o meno in un momento che tu eri già stato ma e oggi è stato il suo compleanno e noi ogni compleanno facciamo gli apprezzamenti e il punto della situazione cioè cosa è successo in quest'anno che cosa che cosa abbiamo visto cosa abbiamo vissuto io e lui due anni fa non eravamo queste persone quando ci siamo conosciuti la comunità ha conosciuto noi ha conosciuto i noi di due anni fa sicuramente diversi adesso ci sentiamo più cresciuti più più tante cose ma a parte quello non potevano vedere che cosa avremmo fatto nessuno di noi due avrebbe mai pensato che noi oggi fossimo qui a fare certe cose o ad affrontare certe difficoltà anche emotive personali crisi personali perché non ti sei mai trovato nella situazione idem la comunità non è guardandoti conoscendoti due settimane un mese due mesi tre mesi che può sapere che cosa potrai dare cosa potrai fare o dove potrai cadere che difficoltà potrai avere quindi il punto è un altro secondo me quella è l'unica cosa che l'unica la cosa che la comunità guarda e ne abbiamo parlato anche nelle nostre facilitazioni appunto di gruppo che abbiamo fatto poco tempo fa qual è quella cosa che ti porta appunto a fare entrare una persona in pianta stabile quindi conta che è un periodo per noi almeno meno no ma circa di due anni da quando inizi a frequentarci regolarmente a quando entri possono passare due anni vuol dire che da quando ci conosciamo a quando arrivi ne può passare anche un tempo più lungo come no però più o meno i tempi sono quelli l'unica cosa e la cosa più importante è camminare nella stessa direzione entri in una comunità quando tu noi diremmo sposi il progetto nel momento in cui tu riconosci capisci che sei allineato a quei valori a quella direzione a quell'idea ma cosa altrettanto importante se non fondamentale tu cammini nella pratica quotidiana quei valori e di fronte alle difficoltà che vengono e saltano fuori perché l'ho già detto non lo sai chi sei in una situazione che non hai mai esplorato possono venire fuori cose che non avevi idea non degli altri di te e poi trovarti in un punto che non sai non sai più chi sei perché non sei più quello che tu credevi di sapere di essere e va benissimo non è una brutta cosa ma il punto qual è? che a un certo punto fai una scelta è chiaro che la scelta la fai se senti una vicinanza una comunanza per questo ci vuole tempo per entrare in una comunità perché devi camminare la vita la vita conoscere le persone trovarti in difficoltà superare crisi poi entri in comunità perché? cos'è che guardiamo? cos'è che valutiamo? ed è una domanda che ci facciamo per quando dobbiamo decidere se una persona si può fermare esplorarci fino alla domanda più grossa entri effettivamente nella comunità che una volta nella nostra comunità noi siamo orizzontali siamo pari quindi non c'è la democrazia non c'è un vertice nel momento in cui tu entri nella comunità e sei un mio pari la tua parola vale tanto quanto la mia e noi non andiamo a voti noi andiamo a consenso assenso ne aveva già parlato forse ed è una cosa diversa dalla democrazia per cui un'alzata di mano cambia la tua voce io la devo ascoltare la voglio ascoltare quindi il grossa domanda è se ti faccio entrare la sto buttando brutalmente o no in comunità e io quello che guardo è che tu sei allineato ai nostri valori allineato perché li senti tuoi e poi cammini quei valori ma è una pratica quotidiana se c'è disallineamento in queste cose per cui non si sposano i valori e i principi e per me non è un fatto di sposare è un fatto che tu a un certo punto senti che quella è la vita per te che i valori sono quelli che tu che tu porti avanti lo puoi sentire non ti puoi forzare l'altra parte che è la parte più difficile in realtà perché se ci mettiamo a parlare io penso che tante persone hanno gli stessi valori la parte difficile è andare oltre le proprie paure il proprio individualismo il proprio personalismo e lì devi mettere in campo delle scelte io scelgo che questa cosa che ho sempre creduto non è giusta per me non è in linea con quel progetto che io ho scelto di portare avanti e decido di guardarmi dentro cambiare e se tu decidi di cambiare vuol dire che c'è qualcosa di te che non ti piace devi ammetterti che non sei perfetto e devi fare tutto un lavoro e se c'è quella cosa penso che c'è la possibilità di entrare in comunità sì se proprio vogliamo parlare di caratteristiche adesso mi sta venendo in mente un'apertura di mente ma soprattutto di cuore allo sperimentarsi mettersi alla prova anche in cose che ti possono spaventare che dici ma no io non potrei mai no non dire non potrei mai provarci provarci e sperimentarsi sì essere aperti non partire con dei preconcetti ok c'è intanto ringrazio tutti quelli che mi stanno facendo gli auguri ringrazio tantissimo c'è Nadia che ci chiede per le persone interessate a venire a provare a vivere vicino a voi potreste fare da tramite per metterle in contatto tra loro tipo creare una lista contatti o una chat aggiornata chat non lo so però noi iniziamo ad avere un non tantissimo ma iniziamo ad avere delle persone che possono essere interessate al momento fare la chat ci sembra un po' prematuro vogliamo un attimo capire perché è nuova anche per noi questo progetto però l'intenzione è creare sì una rete dove noi siamo un po' il centro nel senso che al momento siamo il punto di riferimento e poi avviare ma l'interesse c'è anzi con Nadia ne parlavamo stiamo valutando di iniziare anche noi di mappare seriamente le case in zona le possibilità in zona ieri ho iniziato a interessarmi se ci sono attività agricole avviate o non avviate in zona e vorremmo arrivare a un piccolo peso specifico di persone cioè non fare la chat intesa chi vuol venire a vivere in Valperino io direi che prima c'è sempre la conoscenza esatto è sempre meglio appunto come dicevo prima annusarsi nel senso conoscersi capire se possiamo essere una realtà di supporto per e poi tutto il resto secondo me può venire successivamente insomma questo è quello che mi viene da dire sì per esempio Nadia ti conosciamo già abbiamo vissuto insieme per un tot di tempo sappiamo sentiamo che potrebbe essere una direzione comune la nostra e quindi teniamo in considerazione la tua presenza so quello che vorresti fare mille cose ed è una cosa al momento vorremmo conoscere perché se no si riduce davvero a quel format a quel segna il tuo nome e ti faremo sapere se ci sono case in zone persone con cui avviare un progetto siamo partiti da poco e non vorremmo buttare delle persone assieme senza sapere se stanno andando tutte nella stessa direzione che è quello per entrare in una comunità dopodiché se uno vuole venire qua e prendersi la casa lo può fare anche se non se poi magari non ha nulla a che fare con noi non possiamo impedire a qualcuno di venire a vivere con noi se vogliamo camminare insieme appunto avviare i progetti insieme iniziamo a conoscerci ad annusarci il cosa fare come farlo lo trovi c'è davvero il modo il modo lo trovi ed è incredibile quando sei nella direzione quando sei dentro quella cosa lì le cose accadono ma non perché accadono perché tu le fai accadere o quando ti passano le opportunità davanti al naso sei talmente focalizzato che non è ancora entrata nel campo visivo la prendi se sei disperso potrai parlare del cosa fare come farlo ma se non sei nella direzione rischi di affittare una casa o di farti l'orto quella cosa è importante ma prima conosciamoci e capiamo dove vogliamo arrivare la casa lo troviamo l'orto lo facciamo l'istrice una volta viene da penne una volta viene da ma andremo avanti per un po' di tempo però sì e per me è solo una questione di tempo forse abbiamo iniziato a lanciare questo messaggio da poco con il crowdfunding ecco gli ultimi open day si è parlato di questo e delle persone si sono conosciute si sono conosciute di persona si sono parlate hanno vissuto insieme hanno fatto domande si sono conosciute tra di loro hanno visto delle cose hanno portato esperienze quel contatto lì seppur di uno o due giorni quel contatto ha un senso la lista broadcast il gruppo telegram non lo so adesso forse no quindi venite 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 seguiteci se siete lontani seguite i salotti e poi a un certo punto minchia aprigliate l'aereo e venite qua fatevi un summer camp non lo so c'è gente che lo fa c'è gente che lo fa c'è gente che viene anche a fare corsi da Bari da Bari una volta al mese vengono da Bari prendono il pullman il pullman il treno ragazzi ma in viaggio infinito e si può fare e ne vale la pena e ci stiamo conoscendo così ma questo si è messo si è scritto un corso un anno gli ha dieci volte il pullman da Bari per venire a fare un corso da persone che ha conosciuto su un webinar e lo ringraziamo e sta andando benissimo una conoscenza incredibile ma ci stiamo veramente conoscendo ma volete fare lo scambio esperienziale venite a fare queste due settimane però fatelo cioè via via faccio se non c'è il via faccio e stai lì a guardare i video su youtube si e poi spegni il computer e torni alla tua vita di prima minchia a un certo punto devi saltare se vuoi sei lì sul trampolino in dieci metri e ti domandi com'è tuffarti io lo so ti vengono le formicolie ai piedi guardando dieci metri più in basso poi ti tuffi arrivi in fondo e dici ah ok e poi lo rifai di nuovo ma quel primo passo quel decimo di secondo anche quella è una scelta ma al che vada ti sei fatto una vacanza un'esperienza ti sei fatto un'esperienza per me qualcosa ti porti a casa cioè non è possibile che non piuttosto dici non è la vita per me ma conosci qualcosa di te che se no non avresti conosciuto l'unico modo per sapere cose nuove è fare cose che non hai mai fatto punto non c'è un altro sistema benissimo allora c'è Francesco che ci dice complimenti bellissimo il progetto allargato anche fuori dalla vostra comune trovo si basi sul fondate concetto di interconnessione e direi di sì allora siamo in in chiusura nel senso che siamo arrivati al all'orario si è parlato tanto comunque di scambio esperienziale e abbiamo in programma di fare una serata proprio del salotto dedicata solo ed esclusivamente allo allo scambio esperienziale se avremo la possibilità porteremo anche delle esperienze concrete nel senso che ci piacerebbe avere appunto qui al salotto delle persone che effettivamente hanno fatto gli scambisti gli scambisti effettivamente le persone che hanno che hanno fatto appunto lo scambio esperienziale qui e niente Giorgia Consoli che ci fa che ci saluta grazie ragazzi abbiamo ancora disponibilità per quest'estate non so i periodi non sono in mente me ne occupo ma per lo scambio esperienziale quest'anno poi oltre agli eventi abbiamo i progetti agricoli tante cose e anche solo vogliamo portare mettere le capre abbiamo dei noccioliti che vanno gestiti adesso dobbiamo iniziare a prenderli in mano perché tra un po' si avvicina alla raccolta abbiamo il progetto di spostare galline sempre in nocciolito col chicken truck quindi l'orto e le capre che non ci sono ancora significa anche persone che lavoreranno e costruiranno un chicken truck che dovranno costruire una stalla per le capre che dovranno progettare una stalla per le capre quindi c'è veramente una serra da montare che abbiamo comprato dovremo costruire un terrapieno e montarla quello sarà un bel lavorone e non lo potremo fare da soli se ancora saremo sotto certi periodi quindi abbiamo voglia bisogno sì in parte abbiamo bisogno ma non è un bisogno di quel tipo però abbiamo voglia di conoscere persone che ci vengono a conoscere in un momento di cambiamento di evoluzione della comunità quindi se siete interessati sul sito tempo di vivere che non mi ricordo dov'è non so dirvi tempo di vivere sì ma dentro c'è in fondo al menu c'è lo scambio lavoro al piedi pagina diciamo così c'è vieni a trovarci se non ricordo male esatto e c'è il link per andare allo scambio lavoro esatto lì c'è un form se non ricordo male da compilare giusto per avere indicazione compilate venite poi ricontattati da da George o da Ermanno che si occupano di organizzare questa cosa quindi poi domande cose eventuali sono lì apposta e abbiamo anche lì ancora spazio quindi sì allora appunto c'è Marcella che ci chiede se a giugno siamo pieni o c'è qualche spazio in questo momento io non saprei non lo so chiederei alla regia e per regia intendo la Georgia se ci sta ancora seguendo di o Ermanno o Ermanno per per dieci e comunque eventualmente Marcella se sei interessata comunque compila compila il modulo e ti faremo sapere al più presto chiunque chiunque vuole insomma fare questa questa esperienza ecco se avete questa domanda giustamente adesso l'hai fatta in diretta noi non sappiamo magari darti una risposta il punto è se avete una domanda un'opportunità piuttosto che non chiedere ma magari a giugno saranno già pieni intanto siamo sempre attaccati al telefono manda un'email compila il form il form è un form non lo so come si chiama un form lo compila e dici guarda io posso a giugno male che vada ricevi un'email di risposta il giorno dopo due giorni dopo che dice guarda giugno siamo pieni ma quando io dicevo buttatevi fatelo che ti costa un'email una telefonata è più difficile beccarci al telefono ma l'email per noi è la cosa più comoda spingiamo molto sull'email e anche non su facebook perché facebook è dispersivo ci arrivano mille commenti facciamo fatica a starci dietro un'email è semplice noi la leggiamo quando siamo più calmi abbiamo tempo per leggerla e vi diamo una risposta quindi non abbiate paura a fare domande a noi fa solo piacere se qualcuno vive la curiosità e la curiosità e la curiosità sana è il primo passo per scoprire quindi se noi qualcuno vuole conoscerci benvenga esatto e Giorgia prontualissima scrivi una mail a info chiocciolatempodivivere.it specificando scambio esperienziale e ti ti ricontattiamo quindi info chiocciolatempodivivere.it specificando scambio esperienziale nell'oggetto scrivi scambio esperienziale e Giorgia ti risponderà vale per tutti benissimo quindi io direi che possiamo andare in chiusura vi ringraziamo tantissimo per averci seguito io personalmente ringrazio tutti quelli che mi hanno fatto gli auguri è stato veramente veramente bello grazie a tutti per averci seguito e niente ci sentiamo ci vediamo al prossimo salotto prossimo salotto che adrà tra l'altro lo diciamo abbiamo scelto il giovedì il giovedì abbiamo spostato il giorno parecchie volte nell'ultimo periodo ma uscivamo da un periodo dove facevamo anche i corsi online e ci cadeva il salotto adesso vorremmo tenerlo il giovedì e sarà il primo giorno delle orme della tribù quindi ribadiamo abbiamo ancora ci farebbe piacere avervi in diretta al salotto ci farebbe altrettanto piacere se non foste al salotto ma sareste qui esatto se foste qui in presenza in presenza le orme della tribù esatto quindi scegliete voi e quindi dai sì pubblicità orme della tribù 10-11 open day si può fare un giorno l'altro o tutte e due che è una bella esperienza l'ultima volta ci siamo anche divertiti un casino perché poi alla fine nella sera tra uno e l'altro che cosa si fa? si celebra e la celebrazione è una parte importante delle comunità dovrebbe esserlo noi oggi l'abbiamo dedicata solo a celebrare praticamente quindi oggi abbiamo oggi abbiamo dato importantemente importantemente e poi e poi sì seguiteci su facebook tra l'altro perché siamo un vulcano di idea prima di fare la diretta c'è stata una riunione perché ci ci piace fare le riunioni non ce le facciamo mancare e stiamo buttando in campo veramente doni e qualcosa abbiamo anche la follia di farlo e quindi continuate a seguirci sui social ne vedremo delle belle lo dico non a voi ma lo dico a noi quindi quindi grazie per averci seguito alla prossima grazie ciao 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 Grazie a tutti.